Insieme a Vittorio Descalzi, che poi è un grande della musica italiana, perché mitici New Trolls, che io personalmente ho visto in un concerto. Bene, abbiamo fatto migliaia di concerti. Quindi va bene, ci fa proprio tantissimo piacere. Allora, in giuria di quest'area Sanremo, come è andata? È andata benissimo. È stato difficile, perché è un bell'impegno, è una responsabilità. Siccome il livello era altissimo, ne avremmo fatto passare almeno 30 invece di 8. È stato difficile sceglierne 8. Intanto gli 8 li abbiamo scelti su 800. E comunque gli ultimi è stato veramente quasi un dispiacere doverli lasciar fuori. Ma siccome sono molto bravi, cammineranno con le proprie gambe anche dopo, perché la qualità era altissima. Qual è il consiglio che lascio a questi giovani che comunque si affacciano al mondo della musica, che è tanto duro? Il consiglio è retorico, lo sappiamo. Tenete duro, se credete veramente nel vostro lavoro, non mollate e riprovate tutte le volte che ve ne si presenta l'occasione. E allora, invece, i progetti prossimi suoi? Progetti prossimi è un libro abbinato a due dischi, dove ci sarà la storia di Vittorio Descalzi, che è molto legata alla storia dei New Trolls, e forse anche qualche piccolo inedito dentro. Benissimo, allora noi aspettiamo anche questo. Grazie mille e in bocca al lupo. E viva il lupo. E viva il lupo.